Appassionati, bentornati in un nuovo video. Oggi purtroppo non possiamo fare una sessione di lavoro all'aperto in quanto il tempo non lo permette già da ieri che sta piovendo ininterrottamente. Quindi speriamo di poterne fare una più presto e mantenere la nostra promessa nel weekend di fare la sfida nonno-nipote nella disciplina del Tag of War al meglio di tre. Quindi, prima di cominciare, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel pollicione in su e mi raccomando condividete il video con tutti i vostri amici. Quindi, adesso vi lascio all'intro, noi ci vediamo tra poco. Bentornati, prima di mostrarvi un paio di clip sul nostro soggetto che mette in risalto quello che è la vera potenza e agilità di questa stupenda razza nelle attività sportive, avrei un messaggio veloce per i miei haters. Siccome qualche giorno fa ho dovuto bloccare una persona che ritengo una persona comunque ignorante, perché altro non ha fatto dalle 9 di mattina alle 5 del pomeriggio che mandare messaggi di offese e minacce, tra l'altro, che ho ignorato perché comunque abbassarsi a certi livelli non ne vale la pena, vorrei farvi leggere questo. Ecco, questi messaggi sono derivati dal fatto che io ho espresso la mia opinione su dove? Su un social che ormai penso sia anche in rovina, che è Facebook, ho parlato di alcuni gruppi che per me non rispecchiano la razza, ma rispecchiano l'ignoranza per questa razza. Mentre quello che avete fatto voi, oltre a tralasciare i messaggi, è pubblicare post di offese nei miei confronti, mettendo il nome del mio allevamento, mettendo a volte anche il mio nome nei commenti, perché comunque mi è stato passato tutto ed è stato salvato tutto. Avete addirittura fatto un post su subito.it offendendo il mio allevamento e mettendo la foto di un cane di un'altra persona, che spero che vi denunci anche quella persona lì, perché comunque rubare una foto è reatto. Pubblicare una foto di un'altra persona è un reatto. Pubblicare diffamazioni su un social è reatto. Diffamazione aggravata. Quindi voi continuate, alcuni di voi sono già stati denunciati, continuate pure, fate quello che volete, tanto a noi ci passano assolutamente tutto. Detto questo, ho perso anche troppo tempo, mi sono anche troppo abbassato i vostri livelli, veramente molto ma molto bassi. Vi lascio alle clip che ho preparato per voi. Vi invito di nuovo a iscrivervi al canale, attivare la campanella e se il video vi piace, lasciare un bel pollicione in su. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.